Musica Salute a tutti ragazzi e benvenuti in questo 23esimo episodio della Solink Pokemon Oro e Argento Qui con noi c'è sempre il Rocket Mamma mia che frase, non ne ho fatto manco una pausa, complimenti per questa frase Musica che intro incredibile signori miei Luke, cosa andiamo a fare oggi anche se sembra scontato Beh mi sembra scontato ragazzi ma quest'oggi andremo a distruggere il capo palestra più forte di canto Ossia Blue, almeno ci proveremo comunque come sempre insomma Si spera perché Luke è molto livellato e dobbiamo dire Sì raga io sono un po' nab quindi ho deciso di essere molto sotto sotto livellato Ma come nab Luke, tu sei talmente bravo che ti offrono un tico dei livelli in meno Perché dici vabbè pareggiamo un po' i conti Sì dai non voglio smedarlo troppo insomma Allora eccoci qua in questa palestra qua Noto adesso con piacere che ci sono tipo i Lego Sì infatti No è vero cazzo Cosa avevano fumato questa volta Ah ma è già qua ma non ci sono allenatori Ah già è vero è in realtà qua sul Silve che c'è quella specie di pavimento che si Mamma mia Eh infatti mi chiede a dire ho già pronto psicologicamente Invece subito qua I Lego I Lego E vedi iniziere a parlare Vai già ho visto che la tua parte ti concedo l'onora Eccoti finalmente A Isola Canella non ero in vena Ora sono pronto a lottare con te Vuoi dirmi che hai conquistato tutte le palestre di Yoto? Beh allora le palestre di Yoto devono essere proprio patetiche No non ti preoccupare Capirò quanto vali lottando contro di te Adesso In guardia Ragazzo di Yoto Così Uno a caso Uno dei tanti Sicuramente Non è che siamo delle me... Guarda la sfida di blu Capo Capo boss Minchia capo Vieni qua Samir Samir No Mi manda Clefka Mi manda Coccia Che Clefka Clefka Giusto Iniziamo bene Che cazzo ho detto Ragazzi dopo questa Comunque è morto È morto Già morto Che è duotto tanto Bravo però Clefka Minchia Livello 58 Graveler qua Eh beh lo tiri giù subito Già Non preoccuparti Ho sbagliato poco Non ho mandato Puppenaz Volevamo andare Pasquale Ok intanto io Non volevano Ma io devasto questo coach Che non voglio devastare il tuo Spero che Ma dai ma che cazzo Ma pigi Ma io c'è veramente Perché Uno poi si allenano Per questi qua Aveva pigiot No Luke Ma pigi con turbo sabbia Ma è rimasto un po' Ai primi percorsi Blu Mi sa che Di andare un po' avanti Ok pigiotta po' Minchia flare Un Flare è un Flare è un Pasquale proprio Cioè diretto Pasquale Surf è a casa Dove è il carriano Eccolo qua Non lo vedevo più No col pocaratti su Pasquale Ok minchia Se perde un pokemon adesso Comunque Comunque noto che su pokemon C'ha pokemon verso il 58 Questa cosa mi allarma assai Diciamo Pasquale No 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 Ok A casa A casa Psichico Ok ho vinto Ma io sono ancora Seconda pokemon Tu sei un pazzo Ma c'aveva tutti i paconi di merda Luke ci aveva Allora Cleffa PJ Pichu Tyrog E un altro Che non mi ricordo Un altro Zotzone insomma Esatto Flare Ok Bene ok Allora Che tristezza Ci sono Torch Minchia Torch con l'avanza ragazzi Torch È veramente una godura per gli occhi Comunque Io nel frattempo vedo se ho i repellenti Perché senza repellenti Dove vuoi andare Io ho compatri Se i repellenti Compri Che sono molto Dove vai Se i repellenti Non ce li ha Figa Non li vendono Mi sa che devo volare Figa che è rap Che è rap Alla milanese C'è veramente troppo Ma come rap Ma si ragazzi Per me è rap Per noi in Piemonte Questo qua è rap Ok Quassessi cosa è rap Allora Che figa Beethoven Rap 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 Sì sì Rap è un po' pesante Qua i repellenti Aspettate Ma il centro commerciale Di Azzuropoli esiste Perché non ci penso io Esiste Uh Ryan Come ultimo potenzo Mi sa che ti farai Ti farò molto male Con Torch Bye bye Ok nel frattempo Mentre Luke Devasta la gente Ho vinto Non ci credo manco Io che lo sto dicendo Con il big team Ha vinto Sì ragazzi I pokemon al 51 E blu C'erano al 58 Io provare ad andare Contro rosso Con i pokemon al 51 Guardate Sono già lì Tantanto se il rosso È così scarso Poi vediamo E tu perdiamo male Sì ma noi siamo Se tu sei ready Andrei verso Mont Argent Aspetta che Devo fare una deviazione Va su ucentro Ucentro pokemon Per i repellenti Ucentro Perché noi qua siamo Ok nel frattempo Allora Cosa potremmo fare Mentre Luke Si cura i pokemon Potremmo aspettare Che Luke Si cura i pokemon Quindi potrei guardare Lo schermo Con un'espressione assorta Oppure potrei riflettere Sul senso della vita Ma non lo farai Ad esempio Potremmo riflettere Sul senso della vita Ad esempio Potremmo dire Perché vivi Allora Il concetto di vita È un concetto Molto astratto Ed è legato All'esistenza di Luke Cioè ogni persona In questo universo Vive per Eguagliare La vera bellezza Che è Luke La vera bellezza Ma la gente Non lo capisce Perché è insinuata Dal devil Dalla sizza E la sizza Che diavolo E la sizza impedisce Alle persone Di raggiungere Luke Ah comunque Mi stavo chiedendo Ma i repellenti Dove si compiono? Perché io non li sto trovando I repellenti max Io sono andato Da Azzurroppoli Fai te Minchia raga Cioè io devo Devo fare Il viaggio intero Dalla regione Il giro del mondo Per un repellente max Il giro del mondo In 80 repellenti max Sì raga Veramente Nuo film Di Antonio Banderas Il giro Veramente in 4D Mi raccomando Allora Aspetta che Ricompri Un altro gioco Ovviamente Solo al massimo Per il canale di rocce Come io a questo punto Faccio la cattura Sul percorso a sinistra Di Smeraldopoli Mentre ti Vai Joe Vai 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 Che hai trovato Mi illumini Clayfable No Clayfable Non l'avevo già preso Non mi pare Non mi pare No avevo missato La cattura tantissimo Mica con splash Il cazzo terrificato Comunque mi pare Che abbiamo ancora Tipo due catture Quella lì E poi quella del montagento Bello Io non posso neanche Indebolirlo Come faccio a indebolirlo? E' la stessa cosa Che mi è successo A me nelle scorse parti Te ricordi che ho smadonnato Ok perfetto Come cazzo lo chiamo Io questo Aspetta cos'è Perché il pokemon È già che mi sono già dimenticato Il mio cervello Ma come? Clayfable Ok Allora Polletto Fantagenitore Minchia lo chiamo Turner Vaffanculo Beh Questo mi è piaciuto Come sopannone Però Sono serio Non prendermi per Tipo i fantagenitori Ma tanto lo userò Lo userò mai La risposta mi sembra scontata Ma è no La risposta è sì Quindi tu l'hai cattuato A sinistra di Ismail Dicevi Sì esatto Dove praticamente C'era arrivato Io ho cattuato Cioè ho trovato Seeking al 3 Ma come Io come lo indebolisco Comunque Come al 3? Minchia io che le fei Bolo al 7 E rocce Deve essere sempre il peggio Dicevamo Insomma No no Non ha fatto turbine Vaffanculo Va bene Va bene Va bene Giusto Sì andiamo così Vabbè raga I have no No risposta For Oh Lega pokemon Via vittoria Ingresso Eh sì le palle Perché era tanto No Giacomo Bisogna andare da Hawk Prima Hawk Hawk Dei misti vari Madonna È vero E allora andiamo da Hawk Un attimo Mamma mia Ragazzi Oh Gio Come avete dimenticato Questo piccolo particolare Ok Bene sbrighiamoci Perché sì insomma Raga ci dice che A parte controllarci il Pokédex Che non me la fotto un cazzo Come faccio a finire il Pokédex in una randomizer Beh però bisogna dire Che io praticamente Il Pokédex e Yot Mi mancano tipo Tre pokemon Per finirlo Quindi sono avanti E ma direi anche Quello di canto E quello di canto Ci vorrà un po' più di tempo Ma dettagli dai Ce la facciamo Vabbè adesso direi Che possiamo andare Dal buon red Ok direi che posso andare Io continuo a sbagliare Qua che continuo a cadere Minchia Eevee Vai via Eevee Allora sì anch'io Allora Eevee Torch? Eh ragazzi Torch Veramente Io comunque Ho sempre il pensiero Che se fosse arrivato Merda qua Rosso Sarebbe già scappato Via dal montagento Subito Sì rosso Arrivavamo su Andavamo in capomerda Si buttava giù Quello Io ho questa teoria Nel cervello Che mi sta Veramente Allora Aspetta Allora Qua siamo Io sono praticamente Fuori dal Sono appena uscito Fuori dalla via Vittoria Percorso 28 Quindi penso sia un nuovo Percorso che fuori Dal montagento Giù Quindi cattura Ci proviamo almeno Vai Allora Percorso 28 Per me c'è Ditto Ok Va bene Ok Tristezza Ok Trovato Ok Giù Mostrami Quindi posso riprovare Ok Perché Coccia Ovviamente ce l'ha già Giù Ultra Per Ditto Dai Ditto Per cortesia Mi chiesto Cosa sarebbe onesto Tauros Beh Tauros È molto buono Tauros Quindi Ti andrebbe anche bene Cattura Però ha fallito Ragni a te La minchia terrorizzante Devo dire Temo un bacio Oddio Perché Tauros Preso Io non ho scoperto Ditto Qui Luke L'hai preso Ho preso Ditto Tanto non mi servirà niente Ma io ragazzi Sono un pro E l'ho preso Mi chiesto Sta cipolla Ditto 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 Ok Allora Ditto Come posso chiamare Sto Ditto Vabbè raga Io Ditto Allora Ditto Siamo alla fine Praticamente Io lo chiamo Pongo Perché non lo userò mai Ragazzi E quindi Lo chiamo Pongo No ti prego Pongo No E come lo chiamo Scusa Allora Visto Luke Lo sai Ti devono Ti devono bandire In 26 paesi Dopo sta cagata No no Secondo me mi banno direttamente Sul globo Cioè non posso più muovermi In giro per la strada Comunque io nel frattempo Sto proseguendo Caputo Ok Qua i po' come sembrano Appostanza interessanti Ok dai Lo chiamo Lo chiamo Mimic Dai 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 Che cazzo sono Ma Servateci Che stai facendo Gio Sei un pazzo Sei un pazzo Gio Ok No Ho suonato strada Merda Mi sa che sono arrivato Sì è vero Sì ma sei arrivato Sei arrivato Sei appena tornato Allora Che cheat Che non Ragazzi Chi dimentica È complice Allora Quelle pubblicità bellissime Comunque sono arrivato Anche in vantaggio Chi è Amauri Amauri ragazzi Io dico solo Amauri Ok Ok comunque Poi c'è la casa No Cristo Dio Sono caduto Infatti Infatti te lo stavamo a dire Gio Non cadere Vai piano Con la tastiera Con il mouse Niente Sei caduto lo stesso C'è tipo la casa Dove ti danno la MT Ah io non sono andato Gio Ho detto vabbè Sono troppo troppo Ma si ti danno la MT 47 Che da me contiene Mi devi Ehm Mors Oh mio Dio Ragazzi Siamo fuori dal monte Argento Direi Siamo finalmente giunti Sul luogo del delitto Signori miei Il luogo sacro Esatto Il luogo Dove tutto avrà fine Monte argento Entriamo No Flash Come Flash No Basta Questo Flash Ma avete Non è possibile No Io non lo faccio Volevi Io c'ho Io c'ho Carrion Con Flash Io vado avanti Ciao Ma vaffanco Io ho trovato Magnemite Come Pokémon Bello Allora aspetta che ti dico Subito chi troverò io Ehm Piccolo che il pistola Esce un attimo No vabbè Ma poi dopo cambia Cioè Sono il primo pezzo Con Flash Non credo Ciao Non credo Io ho trovato Dai ma come fa uno Io ho trovato Electro Ma che cazzo Lo posso insegnare Flash Hai cattuato Magnemite O no Sì lo prendo Bravo Mi sento veramente Euforico Allora vediamo un po' Mi sono dimenticato I dagli soprannomi Ma sì Dai siamo agli ultimi Parti Siamo un po' In pena di far Cazzo Brutto colpo Addio Addio Magnemite Perché ho fatto Brutto colpo Sull'Ectro Quindi E va bene Ci sta Ultima E' stata l'ultima cattura ragazzi Non faremo più catture Quindi Evviva Che bello Ah raga raga E' passato il tanto di Gioco Gli levo a Puppe E poi gli levo Raggio Aurora Iperpozione Bravo Montagento Che mi fornisci La trocca Sì Gli levo Raggio Aurora Tanto Puppe Nazzo è un po' Come difensivo Cazzo me ne frega Un revitalizzante Max Ok Figa Stavo sbagliando Totalmente strada Bene Poi ho trovato Repellenti Poi ho trovato Caterpie Questo Montagento È proprio bellissimo No comunque Allora Non mi ricordo bene Moneta 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 Adesso me lo dai Moneta Moneta No ma Monte Argento Il suo gioco Qua è diverso Sì è vero che è diverso È un casino Sì raga perché io mi ricordo Quello di Art Go Non so Mi penso anche tu Gioca Quello di Art Go Ti ricordi Sì è completamente diverso C'è Allora Oggi mi viene un dubbio Non serve cascata Vero O serve cascata Dimmi di no per favore Dimmi di no Spero vivamente di no Perché io non voglio No Ho paura Ho paura Allora Ti ascolta dopo il flash E mi aspetto di tutto Mi aspetto anche a spaccaroccia Così a casissimo Cioè Allora Ok Ah no Sono arrivato Sono arrivato Poi non serviva flash Lo sapevo Io lo sapevo Lo sapevo È così corto È cortissimo In Alte God È molto più lungo In Alte God Ma sei sicuro Ti giuro Aspetta Aspetta Fa un po' vedere Ah Luke Sì Sono da rosso Stai scherzando Aspetta Ma va Sono da rosso io Sono da rosso Ti giuro Ma va Eh Volevi Gioca Ma non ci credo Ti giuro Sono da rosso Io sono fuori dalla camera di rosso Eh sono arrivato anch'io Eh ci sono arrivato E mo E mo che si fa E mo ragazzi Non sappiamo cosa fare Potremmo anche andare O potremmo anche Sì ma le pigliamo in culo Se andiamo Esatto Le pigliamo in culo Quindi io direi di Che ci vediamo Nel prossimo episodio Che dici Che dici Io pensavo che ci mettesse di più Ma anch'io Raga Io mi ricordavo Molta gente Volevo concludere Con Volevi Cazzo Volevate rosso E invece ci vediamo Nella prossima parte Ragazzi Eh si raga Perché comunque Di poco non è al 54 Cioè vinciamo solo se c'ha 6 Magikarp Sì in tre In tre Potremmo anche andare Al macello Però sarebbe veramente Troppo rischioso Ti raga ve la perdiamo Se facciamo una roba così Cioè proprio Esattamente Esattamente Quindi ragazzi Diciamo che ci vediamo Al prossimo episodio E lasciamo a creepy La fine di questo video Esattamente Quindi signori miei E se questo Seppur breve episodio Vi è piaciuto Vi invito Come al solito A lasciare un like A commentare A iscrivervi al canale Sia mio che di Rochat Rispondete alle mega domande Del giorno Che stanno qua sopra In da sidebar Esatto E passate da tutti i social Insomma per scoprire Se Mediafire Non funziona E quindi non usciranno I miei episodi Della Soulink Un saluto a Mediafire Affettosissimo Grazie a Mediafire Troppo buono Iscrivetevi al canale di Mediafire Giusto E noi ci becchiamo In un prossimo video Bye bye ragazzi Alla prossima